Gianfranco Bortolato Mi nome è Gianfranco Bortolato, io sono oboista italiano, obo e solista del Teatro della Opera di Roma. Per me è un gran honor, un gran placer, essere qui in Guatemala, invitato come solista nella Temporada della Orquestra Sinfonica Nazionale, con la battuta di Gabriele Giella, come direttore, con un programma che incluye la prima parte, due concerti per oboe. Il primo è un concerto per oboe e cuerdas di un compositore italiano, Vincenzo Bellini, uno dei grandi compositori di un'opera, è un'opera molto divertente, con molto spirito, molto carattere di opera. Il secondo concerto che toccare è il concerto di Ludwig Auguste Lebrun, in questa occasione toccare il concerto numero uno, che è un'opera totalmente classica, però con molto virtuosismo, molto interessante. L'espero al concerto il prossimo 22 di agosto a le 8 da noc al Teatro Miguel Ángel Asturias. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.